Come è andata l'esibizione? Io penso bene perché alla fine è stata un'esperienza unica, nuova e anche con alta tensione diciamo Hai usato qualche tecnica particolare sul palco? Più che tecnica ho subito un po' l'istinto con questo nuovo prodotto che è fantastico perché veramente ti dà la possibilità di creare quindi oggi il perrucchiera ha bisogno di creare e questa nuova invenzione è veramente eccezionale Perché deve vincere Francesco il nostro contest? Perché sono dalla Calabria, no scherzo, sicuramente sarebbe straordinario, me lo merito dai, grazie Grazie